San Giuseppe, la festa dei lavoratori, un legame stretto e indissolubile, quello che lega il popolo italiano ai figli della luce, ricordare così lui, Giuseppe, padre putativo di Gesù, il primo maggio, la festa di San Giuseppe, lavoratore, espressione la sua della grande dignità di un lavoro onesto e leale, Giuseppe, discendente della stirpe di Davide, una regalità la sua però solo nominale, una vita in concreto invece spesa nel silenzio di una bottega da carpintiere, sposo virginale di Maria, seppe sostenere la propria sacra famiglia con gli sforzi, sacrifici di un'esistenza di lavoratore, Esempio perciò di un uomo umile, onesto e caritatevole, ma anche di un lavoratore instancabile e leale, un uomo Giuseppe che con il suo sì silenzioso seppe cooperare al progetto salvifico del Dio della luce, non clamore né ricchezza alcuna né ancora grandi discorsi o solenni opere accompagnano la vita di Giuseppe, ma un'esistenza fatta al contrario di semplicità, di cose piccole agli occhi del mondo ma giganti agli occhi di Dio Da lui Gesù imparò l'arte della falegna nemeria, in lui il Cristo vide il compendio di quelli vertù che dovrebbero accompagnare l'agire di ogni lavoratore, non un guadagno facile e superfluo furto di sofferenze inflitta al prossimo svilitto strumento di ricchezza, ma al contrario un agire continuo ora dopo ora, giorno dopo giorno, per una vita dignitosa e leale Questo San Giuseppe, questo il lavoratore caro a Dio, nel giorno quindi della festa dei lavoratori la Chiesa ricorda San Giuseppe esempio di fede profonda, carità, umiltà e senso del dovere Il tutto illuminato dalla luce dell'amore, perché solo per amore tutto si può, perché solo per amore del Cristo ogni lavoro assume la forma della redenzione